Tre cose che non sai sull'intermodalità dei trasporti. Che cos'è? L'intermodalità dei trasporti prevede per un unico spostamento l'utilizzo di più mezzi di trasporto, se possibile non privati. Quali sono i vantaggi? L'intermodalità è un'ottima alternativa all'utilizzo delle auto private. Riduce lo smog e l'inquinamento in città, riduce il traffico urbano a favore di mezzi di trasporto più sostenibili, come per esempio i monopattini, le auto elettriche oppure le biciclette. Cosa fa l'Unione Europea al riguardo? Per raggiungere una intermodalità efficiente occorre superare alcuni blocchi che ancora ne ostacolano una corretta applicazione, come per esempio l'accessibilità, la qualità, la velocità e la puntualità dei servizi, accanto a misure di sostegno amministrative. Nel 2020 la Commissione Europea ha adottato una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, evidenziando l'importanza di interconnessione fra gli Stati membri nella creazione di hub intermodali e dichiarando l'intenzione di procedere a una revisione del quadro normativo per il trasporto intermodale già da quest'anno.